La famiglia Leuci opera nel settore vitivinicolo da molti anni, tanto che il nome della casa vinicola Lucio Leuci è un dovuto tributo all'operoso lavoro svolto dal nonno sin dal 1924. Oggi la passione e la dedizione dei nipoti nonché fratelli Francesco e Lucio fanno sì che l'azienda sia definitivamente orientata verso produzioni di qualità contraddistinte da marchi attestanti la tipicità della terra d'origine. Le uve provengono in gran parte dai terreni di proprietà, estesi su una superficie di circa 30 ettari, di cui 22 coltivati a Negramaro, vitigno tipico del Salento, 3 a Montepulciano e 5 a Chardonnay. La vinificazione avviene nella moderna cantina situata nella zona industriale di Guagnano, a poche centinaia di metri dall'azienda agricola, dove le uve sono lavorate secondo rigidi protocolli di vinificazione che garantiscono l'ottenimento di vini di gran pregio. Le varietà principalmente coltivate sono tre, il Negro Amaro, vitigno tipico del Salento, il Montepulciano e lo Chardonnay. Al 2013, grazie all'incontro con la cultura ebraica, la famiglia Leuci dedica anche un piccolo e selezionatissimo quantitativo di uve alla produzione di vini Kosho for Passor.